Buongiorno a tutti, siamo a Villa Marzana in attesa di una delegazione che verrà a visitare il nostro monumento, la delegazione da Ieso. Una delle tante iniziative che nel mese di aprile, nel mese di viaggio abbiamo fatto per fare in modo di far conoscere il nostro monumento al di là anche di quelli che sono i confini del nostro Polesine. In questo periodo stiamo mettendo a punto diverse iniziative affinché il monumento che è parte della resistenza del nostro Polesine ma anche è un qualcosa che va al di là diventi un punto di riferimento per tante persone che vogliono conoscere la nostra storia che è la storia poi che d'Italia. Grazie a tutti.